Compre il giornale, vado a casa e scendo domani mattina. E cosa ne pensate di questa zona rossa? Se necessario bisogna farla, ma seriamente, no così. Noi non siamo attenti a rispettare tutte le regole e questa è la conseguenza, perché se avessimo rispettato le regole dalla A alla Z non c'era bisogno di rosso, verde o giallo. Ma bensì si sarebbe già debellato la situazione. Bisognerebbe uscire con l'autocertificazione, lei ce l'ha se la dovessero fermare? No, non ce l'ho la certificazione. Ovviamente si sente che manca la libertà, tutto è chiuso. Ce l'ha l'autocertificazione, se la dovessero richiedere? No, non ce l'ho, perché chi le vende? Io sono molto arrabbiata. Sì, siamo tutti in zona rossa, è vero, in Lazio, però fino a ieri e l'altro ieri avete fatto in modo che tutti quanti facessero quello che volessero. Se stamattina mi ferma qualcuno, io mi faccio arrestare oppure mi faccio multare, però me la dovete pure togliere, perché non è possibile l'andazzo in cui è andata tutta questa situazione. E dobbiamo che ci fanno il vaccino pure a tutti quanti, perché stanno portando troppo ritardo per i vaccini. Oggi per uscire bisogna esserci una necessità, lei che cosa sta andando? Sto andando in farmacia veramente. Lei se la dovessero fermare ce l'ha l'autocertificazione? Sinceramente no. Perché pure per uscire a piedi? Sì, sempre. E allora non provvido. Ora vado in farmacia, dopo vado a casa e provvido. Sono uscita da casa, sono andata all'ufficio postale a fare la spesa e ora torno a casa. Se la dovessero fermare, lei ce l'ha l'autocertificazione? Sì, sì, ce l'ho. Cosa ne pensi di questa zona rossa? Che ne penso, che purtroppo per colpa di tanti giovani, soprattutto tanti giovani, ci troviamo al punto di partenza. Perché ecco, se stavano un po' più attenti, può darsi che adesso non stavamo in questa situazione. Sono uscito per il giornale, ho preso il caffè e adesso ritorno a casa. Ho la certificazione in tasca. Andato a fare un acquisto, poi ho giocato il superenalotto, adesso mi sto riposando un poco e poi ritorno a casa. Dieci giorni di zona rossa forse porteranno dei benefici perché i giovani sono quelli che sono disattenti a questo Covid. Com'è andata questa mattina di primo giorno di zona rossa? Beh, per adesso devo dire complice anche la bella giornata che un po' di persone ci sono in giro. Ovviamente non come i lunedì normali, contando anche che le scuole sono tutte in dad, quindi comunque i ragazzi non ce ne sono in giro. Diciamo che alla fine la gente giustamente sta scendendo per le cose principali, quindi per i beni di piena necessità. Poi logicamente, come ho detto, complice la bella giornata, magari ne approfitta e si può fare, cerca anche di farsi una piccola passeggiata. C'è una zona rossa da rispettare, bisognerebbe limitarsi solo alle uscite necessarie di casa. Poi logicamente complice sicuramente la stanchezza che la gente magari durante il primo lockdown è rimasta un po' più lì già alle regole. Ora sicuramente diciamo che la gente è un po' così, un po' stanca, quindi difficilmente rispetta le regole in maniera come si dovrebbe. Grazie a tutti.